Buongiorno a tutti, grazie Andrea, grazie Presidente per questo invito che vi fa molto molto piacere. Sono state settimane difficilissime per tutti noi, per il nostro Paese che si è trovato ad affrontare primo in Europa e tra gli altri Paesi occidentali una sfida senza precedenti, come quella che il virus ha portato alle nostre comunità. Il Paese ha reagito, pur tra mille difficoltà, le istituzioni repubblicane, il Governo, le regioni, le persone sono riuscite a rispondere a questa crisi senza precedenti. Se questo è avvenuto è anche grazie a chi ha fatto fino in fondo la propria parte. Tra questi ci siete sicuramente voi, farmacisti del nostro Paese. Io voglio ringraziarvi convintamente, senza alcuna retorica, ma penso che siete stati un pezzo fondamentale della capacità del nostro Paese di reagire di fronte alla sfida che era arrivata. Le farmacie non hanno mai chiuso i loro battenti. Sono state capaci di rappresentare con coraggio la necessità di continuare a rispondere alle esigenze fondamentali dei nostri concittadini. Oggi siamo in una fase diversa, non c'è dubbio. Le immagini più drammatiche che abbiamo vissuto nel mese di marzo sembrano essere alle nostre spalle, ma ancora serve cautela, serve prudenza. Non dobbiamo assolutamente immaginare che la battaglia sia definitivamente vinta. Per vincerla ci sarà bisogno, come è noto, di un vaccino a cui la comunità scientifica internazionale sta lavorando, a cui anche l'Italia sta provando a mettere il più possibile la testa con un investimento importante. Fino ad allora sarà essenziale mantenere un livello di prudenza, di cautela, che io ritengo assolutamente decisivo. Ora però abbiamo un'altra sfida insieme. I farmacisti devono stare convintamente dentro questa sfida. È la sfida di imparare fino in fondo dalla lezione che abbiamo avuto. Papa Francesco ha usato parole straordinarie, che voglio ripetere qui solo per un istante, ma che mi sembra indichino la strada e il lavoro da compiere nei prossimi giorni. Peggio di questa crisi, ha detto Papa Francesco, c'è solo il rischio di sprecarla. E noi non dobbiamo sprecarla, dobbiamo essere all'altezza di una lezione così dura che c'è entrata in casa. Non sprecarla significa per me fare due cose fondamentali. La prima, chiudere definitivamente una stagione dei tagli che per un tempo molto lungo ha visto purtroppo ridursi le risorse del Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo dire con forza basta e ricominciare ad investire, come già avevamo iniziato a fare, in realtà nella manovra di bilancio. In cinque mesi abbiamo messo più risorse che negli ultimi cinque anni. Quella è la strada giusta, dobbiamo ancora insistere, perché ogni euro messo sul Servizio Sanitario Nazionale è un euro per dare più sicurezza, più protezione, più garanzia ai nostri cittadini. E poi insieme alle risorse c'è bisogno delle riforme, riforme importanti, profonde, di cui ha bisogno il nostro Servizio Sanitario Nazionale per essere all'altezza delle sfide nuove che sono già dentro la nostra casa, che ci sono già arrivate in casa ma che si profilano ancora all'orizzonte. Tra queste sfide ce n'è una essenziale che riguarda tutti noi, ma riguarda anche voi, la vostra funzione. Bisogna ricominciare a mettere al centro il territorio. Il coronavirus ci ha presentato in maniera assolutamente netta la necessità di un nuovo investimento sul territorio. Noi abbiamo iniziato già a farlo, anche con l'ultima legge di bilancio, ma anche in qualche modo nella fase precedente. Dobbiamo insistere. E sul territorio bisogna valorizzare chi c'è, chi c'è davvero. E io penso che i vostri presidi, i vostri luoghi, i vostri spazi fisici, sono spazi fisici che entrano fino in fondo dentro le viscere del nostro paese. Non c'è piccolo paese, piccolo comune, non c'è strada di grande città dove non ci sia un presidio legato alla professione del farmacista. E allora per questo dobbiamo investire con coraggio, insistere con coraggio sul terreno che abbiamo provato a disegnare. La farmacia dei servizi è un'idea che mi convince molto, è un progetto che dovremmo ancora rafforzare, come abbiamo iniziato a fare, ma insistendo con ancora più forza, perché ha questo significato per me. Se io ho un presidio dove c'è una competenza, dove ci sono conoscenze, devo usarlo il più possibile. Nel tempo dell'esplosione delle cronicità e nel tempo in cui cambia e si inverte la piramide demografica e aumentano il numero di persone anziane, che sono quelle chiaramente più colpite dalla cronicità, abbiamo bisogno di più vicinanza, più prossimità. E qui c'è un ruolo straordinario che voi potete rivestire, dovremo lavorare insieme per affrontare questo, come tanti altri temi che sono all'ordine del giorno. Penso per esempio alla necessità di riattivare, lo stiamo facendo proprio in queste ore, il processo, il tavolo che ci ha visto discutere insieme della nuova remunerazione, che è un grande tema all'ordine del giorno, su cui abbiamo necessità di confrontarci, di sciogliere i nodi che ci sono e di procedere in modo convinto sin dalle prossime settimane. Non voglio fare un discorso lungo, voglio semplicemente esprimervi un sentimento di gratitudine da parte mia, da parte del governo, perché in questa fase così difficile avete contribuito in maniera vera a portare il Paese fuori dal suo momento peggiore. Ora si apre una stagione diversa, con tutta la cautela e la prudenza del caso, e dentro questa stagione dovremo saper continuare a tessere quella relazione positiva che ci metterà insieme nelle condizioni di costruire la sanità del futuro. Grazie ancora per il vostro invito e buon lavoro a tutti.